Benvenuti ad una nuova puntata di Qui Salute Play su Radio Nostalgia, siamo con la dottoressa Isabella Torturici, medico radiologo e titolare dell'omonimo centro diagnostico. Quanto è importante disporre di personale che sappia interpretare al meglio le radografie, quindi i referti? Il personale direi che è un punto fondamentale, perché si parla spesso di apparecchiature, le persone ti chiedono ma che tipo di macchine avete? Chiaramente le apparecchiature sono importanti perché negli ultimi anni hanno avuto un'evoluzione veramente epocale e quindi l'apparecchiatura si sa che è importante, però un apparecchio non fa tutto da solo, non fa l'esame da solo, l'esame va impostato e poi le immagini vanno interpretate, quindi ci vuole personale dedicato, preparato e soprattutto anche che impieghi il giusto tempo per i vari esami, cioè esami troppo veloci, certe volte per la velocità si può andare a scapito della qualità. Grazie!